Coach Montagnani, quanta gioia alla fine, perché è una partita difficile, però avete voluto vincerla con tutte le vostre forze e alla fine siete riusciti. Mi trovo un po' in difficoltà a commentare questa partita per quello che è successo nell'ultimo minuto del riscaldamento, quando Barotti si è infortunato all'ultimo salto del riscaldamento, mi trovo in difficoltà perché la squadra questa settimana aveva fatto una settimana di allenamenti eccellente, dico sempre la verità, gli ho detto a loro quando si allenavano male e gli ho detto anche invece che questa settimana avevano fatto una settimana di allenamenti eccellenti. A questo non ha corrisposto una qualità di gioco altrettanto eccellente, dobbiamo considerare però che perdere Barotti può essere una mazzata non semplice da digerire. Mi trovo in difficoltà perché abbiamo vinto, sono molto molto contento, avrei voluto vincere con tutti gli effettivi e con un gioco migliore. Possiamo dire però che questa voglia di non mollare, questa anche riscossa nel quarto set rappresentano una nota molto positiva? No, io vedo anche una nota molto positiva nell'impatto che abbiamo avuto nel primo set. Potevamo essere molto più fuori equilibrio e invece tutto sommato forse è il miglior set che abbiamo giocato. Secondo me abbiamo, il quarto set sicuramente ci ha aiutato anche proprio una particolare tensione, una particolare voglia di vincere. Questo è buono, lo stesso secondo me si è visto in alcuni frangenti del quinto dove abbiamo fatto in pochi minuti quello che dovevamo fare per tutta la partita. E questo vuol dire che i ragazzi in alcuni frangenti prima non erano stati sufficientemente attenti. Invece con la strizza di dover vincere per forza il quinto set allora sono venute fuori tutte le informazioni, allora sono venute fuori tutte le risorse, ma non è che si può aspettare sempre il quinto set e il punto a punto del quinto set. Quindi il nostro lavoro continua. Ho detto una settimana eccellente di allenamenti perché questa settimana i ragazzi hanno lavorato tantissimo. Hanno fatto i propri record per quanto riguarda il salto, hanno fatto i propri record per quanto riguarda i pesi sollevati. E quindi è una settimana molto positiva, ripeto, oltre a una qualità di allenamento eccellente. Solo che poi bisogna riportare tutto in partita perché ci serve giocare bene. Ci può dire qualcosa di più su Barotti? Barotti lo riavremo fra almeno l'analisi che c'è ora, sicuramente a Macerata non ci sarà.